Venuta la sera, fite e tenebre si sono attenzate sulle nostre piazze, strade e città. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi, ci siamo trovati impauriti e smarriti. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. La tempestà smaschera la nostra vulnerabilità. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Non ti importa. Pensano che Gesù si desinteressi di loro, che non si curi di loro. È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù, perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Grazie. 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 Grazie.